La transizione energetica passa anche dall'utilizzo innovativo dell'idrogeno, dal PNRR, novità che riguardano proprio Taranto. Ne parliamo con Mino Borraccino, consigliere del Presidente della Regione Puglia per l'attuazione del piano Taranto. È un'opportunità che il Presidente Emiliano ha voluto mettere in campo di concerto con il Ministero della Transizione Energetica, il MITE, per utilizzare fondi della misura 3.2 del PNRR per la produzione di energia pulita, l'unica energia a zero emissioni che appunto è l'energia proveniente dall'idrogeno verde che si produce attraverso la produzione di energia da fotovoltaico. La Puglia sappiamo essere la Regione all'avanguardia dal punto di vista della produzione di energia fotovoltaica. Noi vendiamo il 40% della produzione che produciamo, quindi abbiamo un surplus di questo. E quindi c'è la possibilità sulle aree dismesse dal punto di vista industriale, penso ad esempio ai terreni che non possono essere utilizzati per nessun motivo attorno all'Ilva o anche rispetto a ciò che accade a Brindisi, a Cerano, la centrale Enel di Cerano, lì si possono realizzare concretamente delle esperienze positive sulle quali la Regione già lavora da tempo attraverso partnership anche con il Governo nazionale e con imprenditori di primaria grandezza a livello nazionale ed internazionale. È una misura importantissima, ripeto, che consentirà non soltanto la produzione di idrogeno in siti industriali, penso all'Ilva, che potranno utilizzare quasi in loco la produzione di questa energia pulita e quindi la trasformazione, come il Presidente Emiliano tante volte ha chiesto e ha anche ottenuto prima dalla Commissione europea, dal Comitato delle Regioni e poi dal Governo nazionale per la decarbonizzazione dell'acciaieria di Taranto. Ma nello stesso tempo anche poter creare una filiera produttiva per mettere in campo tutto ciò che serve per la produzione di tutto quello che servirà nei prossimi anni per la produzione di idrogeno in tutto il mondo e quindi con una ricaduta occupazionale importante.